Zero Motorcycles, leader mondiale nelle moto elettriche, ora ha annunciato un rinnovamento della propria gamma e Aurora Vovone ci spiega il tutto in questo servizio. Zero Motorcycles, il leader mondiale nelle vendite e nell'innovazione delle moto elettriche, ha annunciato l'uscita di un ampliamento di gamma della versione Zero DS 11 kW. Il nuovo modello è progettato per i motociclisti sportivi che hanno patente A1 o B, equiparandola alle moto da 125 di cilindrata. Con il doppio della capacità della batteria, la Zero DS ZF 14.4 da 11 kW offre ai motociclisti la possibilità di guidare fino a 262 km in città o 170 km in ciclo misto. È possibile inoltre aggiungere una batteria supplementare Power Tank per far salire queste cifre a 328 km in città e 220 km in ciclo misto. La linea Zero delle moto da 11 kW comprende anche il modello Zero S, orientata all'uso prevalentemente stradale e che offre la migliore esperienza di guida complessiva della sua categoria in ambito dei veicoli paragonabili alle 125 di cilindrata. I 109 Nm di coppia conferiscono un'impressionante accelerazione che fionda i veicoli in avanti senza frizione o cambio. Inoltre, le prestazioni possono essere personalizzate utilizzando l'app mobile di Zero, il tutto per soddisfare le esigenze e i livelli di esperienza di una vasta gamma di motociclisti. L'ampliamento della gamma delle Zero DS 11 kW soddisfa una crescente domanda da parte degli europei che hanno patente B o A1 e che cercano un'esperienza sportiva nuova, entusiasmante, doppia. Ha dichiarato Umberto Uccelli, amministratore delegato di Zero Motorcycle Europe. Con il doppio della batteria e le opzioni di ricarica rapida, le autonomie e le opportunità di ricarica personalizzate di questo nuovo modello trasformeranno il trasporto quotidiano di un crescente numero di utilizzatori in un'esperienza pura, potente e senza sforzo.